Nell'omelia della Messa celebrata dal Papa al Pontificio Collegio Nordamericano per la canonizzazione di Fra Junipero, c'è una domanda forte che Francesco rivolge ispirandosi proprio alla sua figura. Siamo capaci di rispondere con la stessa generosità e con coraggio alla chiamata di Dio che ci invita a lasciare tutto per seguirlo, per ritrovarlo nel volto dei poveri? È lo zelo missionario, ricorda, che interroga e provoca. Il frate, afferma il Papa, è stato un instancabile missionario che volle condividere il dono dell'incontro con Cristo, evangelizzando gli indios della California e allo stesso tempo difendendoli dai sopprusi dei colonizzatori. Egli affidò il suo impegno alla Vergine di Guadalupe che da allora, sottolinea Francesco, divenne la padrona di tutto il continente americano. L'invito del Papa è di guardare alla santità del frate perché tutto il popolo americano riscopra la propria dignità, consolidando la propria appartenenza alla Chiesa. La sua preghiera è che l'impetuoso vento della santità percorra il giubileo della misericordia e che Cristo sia più presente nella vita delle persone perché così ci sia più fratellanza, giustizia, solidarietà e pace. Infine, a Fra Giunipero e a Nostra Signora di Guadalupe, il Papa ha fidato i suoi prossimi viaggi nel Sud America e nel Nord America.